Maestro, chi è costui che un mare di voci si tanto travolge? L'uomo di cui vuoi sapere è uno di quelli che in treno telefona da quando vi sale fin quando non scende e a voce tonante ignora gli sguardi di chi accanto a lui implora pietà. Scusate! Dio li condanna a udire chiamate che mai avranno fine a meno di un metro da loro, in viva voce! Poeta, volentieri parlerei a costui. Dè, parla. Ti sta bene. Madonna quanto ci godo con quelle voci insopportabili. Carissimo! Carissimo! No, scusa, non posso parlare, sono in galleria. E adesso ci rimane in galleria! Sottoterra! Muto! Per sempre! Andiamo avanti.